Della biografia di Jacopo de Benedetti, detto Jacopone, sappiamo molto poco. Sappiamo che nacque nella cittadina Umbra di Todi, nella prima metà degli anni 30 del 200, e che dopo una giovinezza libertina e scapestrata si convertì alla fede cristiana in seguito ad un evento tragico, la morte della moglie Vanna, e a quel punto entrò a far parte dell'ordine francescano. Sappiamo poi che quando nel 1295 fu eletto papa Bonifacio VIII, lui denunciò l'illegittimità di tale nomina e per questa ragione fu scomunicato e incarcerato. La prigionia fu dura, durò per ben otto anni, finché non fu liberato nel 1303, proprio alla morte di Bonifacio VIII. A questo punto fece ritorno al convento francescano di Todi, dove lì trascorse gli ultimi anni della sua vita e dove morì nel 1306. Ora, perché noi ricordiamo Jacopone? Perché Jacopone fu autore di ben 92 laude in volgare Umbro. Che cos'era la lauda? La lauda era un componimento, generalmente di argomento religioso, costituito da strofe di pochi e brevi versi alternate a ritornelli che si ripetevano con regolarità. Risulta abbastanza evidente, proprio considerando la sua struttura, l'origine di questo genere nel contesto liturgico, che si ritiene possa derivare da quella parte dei liti liturgici che erano detti pianti, ossia delle lamentazioni corali da parte delle donne che piangevano e si addoloravano ricordando le sofferenze patite da Cristo. Comunque sia, tornando alla lauda e alle laude, bisogna dirselo. Sì, si trattava di testi piuttosto monotoni, ripetitivi, dal ritmo molto cantilenante, caratterizzati da uno stile drammatico e patetico. Ecco, l'originalità di Jacopone sta proprio nell'essersi inserito in questo contesto letterario più religioso che poetico e nell'esserne diventato il principale rappresentante. Le laude di Jacopone iniziano a circolare in territorio umbro, ma poi anche in tutta Italia, e per lo più raggruppate in dei veri e propri laudari. Il tema principale, come dicevamo, era quello religioso. In questi componimenti Jacopone riversa tutti gli ideali della sua fede francescana, ma bisogna dire che ne radicalizza in modo drastico le tematiche. Una delle parole chiave per comprendere l'esperienza letteraria di Jacopone è esmesuranza, cioè mancanza di misura, dismisura. Jacopone canta tragicamente il baratro incolmabile che sussiste, a suo modo di vedere, fra il piano umano e il piano divino, con tutte le conseguenze che naturalmente questa idea comporta. Ma non basta. In Jacopone la natura e l'amore diventano malefiche occasioni di peccato. Il corpo umano diventa soggetto e oggetto di continue tentazioni pericolose. Si celebra in maniera positiva, invece, ogni sorta di punizione corporale, perché utile alla redenzione e alla purificazione. Ma non dobbiamo stupirci di queste radicalizzazioni, perché più o meno la stessa cosa avverrà anche nel contesto trecentesco della letteratura religiosa domenicana, con autori come Jacopo Passavanti e Domenico Cavalca, che insisteranno ancora proprio su questa demonizzazione della natura e del corpo umano. Ma torniamo a Jacopone. In Jacopone troviamo anche chiaramente qualcosa di interessante. Se da un lato risulta incerta l'attribuzione a Jacopone dello Stabat Mater, un famoso inno sacro pieno di pathos tragico dedicato alla Vergine Maria, dall'altro una delle sue laude più famose è Donna de Paradiso, che è un lungo testo composto da quartine di settenari che ripercorre in modo drammatico e sempre cantilenante le tappe più dolorose della Passione di Cristo. La tragicità di questo componimento è anche amplificata dalla struttura dialogica. Infatti nelle varie quartine che si alternano in questo testo ci sono dei virgolettati da parte dei protagonisti che esprimono tutta la loro sofferenza. Fra l'altro questo alternarsi di battute, di dialoghi, sembrerebbe confermare l'ipotesi che questi testi fossero in realtà recitati, teatralizzati in spettacoli drammatici all'interno dei conventi francescani. Ma non tutti i testi di Jacopone sono di argomento religioso. E allora, per concludere questa nostra breve panoramica, richiamiamo la famosa lettera in versi che Jacopone, mentre era imprigionato, scrisse a Bonifacio VIII e nella quale riversò tutto l'astio che nutriva nei confronti del pontefice. Sostanzialmente in questo testo Jacopone chiede al Papa di assolverlo, di togliergli la scomunica, di liberarlo, per permettergli di combattere contro di lui ad armi pari, una sorta di sfida. Solo nel finale del componimento questi toni di sfida sembrano attenuarsi, cedendo il posto a formule di captatio benevolentie, come leggiamo Vale, 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 De, cioè Dio, te tolla, omne male, ti tolga ogni male, e doni il me e lo doni a me per grazia, che ho il porto en leta fazia, che io lo porterò con lieta faccia, con letizia. Sostanzialmente Jacopone chiede a Dio di togliere al Papa ogni male, e piuttosto di darlo a lui, che saprà portarlo con serenità. Diciamo che, anche se quest'ultima frase potrebbe essere letta in chiave un po' provocatoria, perché Jacopone è un po' come se dicesse il male Dio dallo a me, che saprei portarlo con più onore di quanto non farebbe lui. Ma comunque, nel finale diciamo che il desiderio di libertà di Jacopone sembra prevalere sul livore nei confronti del pontefice. Le parole di Jacopone resteranno inascoltate e la sua prigionia si protrarrà fino al 1303, come già detto in precedenza.